e sociale per gli affitti per gli indigenti e quindi la nostra piena approvazione. Il mio territorio, già altre volte avevo avuto modo di indicarle, in particolare sulla torsala triatica, dove ho distabilità e quindi siamo grati e vorremmo però capire dal punto di vista prettamente operativo degli investimenti nella città della Bari Napoli, sulla quale visto che si prevede delle azioni forti e anche, diciamo, inizialmente per il 2011 nella precedente programmazione, siamo arrivati, se non ho detto male, fino al 2023. E' il ministero per quanto riguarda gli investimenti e questo credo che sia una parte molto molto importante perché è in dubbio che i procedimenti e le procedure delle regioni, spesso di San Pagrazio-Salentino, un'opera incompiuta, dove l'ANAS ha il ministero e, malgrado ci sia l'accordo di programma delle risorse stanziate della regione Pugna, l'investimento ha ritenuto che ci siano delle problematiche per cui di fatto ha bloccato tutto e credo che sia paradossale.